Numero 17, Marco Fedretti, sezione di Bergamo. Numero 52, Marco Querenghi, sezione di Pordenone. Vi state perdendo un po' di mordente, eh, fanpara? Non so che vi state concentrando per il Damiano, però adesso diamo anche altri. Troppo Vimbrulè o troppo poco. Numero 166, Eugenio Soppenza, sezione di Trento. Portate del Vimbrulè a questi signori, per favore. Quando c'è va, c'è va. Come un cavolo, un bello di carta di riso e calma di bambini. Capitani, coraggiosi, furbi, contrabandieri, macedoni. Allora, scusa Gabriele, possiamo passare un attimo? Abbiamo qui con noi Cesare Einaudi, che si è sposato qui in Formanza, pur essendo di Cuneo, nel 96. Allora, quindi facciamo una specie di, una specie di Portobello. Allora, se c'è un Bucchi, qualche Bucchi dei Giuli qui in zona, o? O parenti, diciamo Bucchi dei Giuli, è pregato di presentarsi qui, perché magari facciamo caramba che sorpresa. Va bene. Grazie a te. E ci stava da Dio questo attacco dopo.